Salve amici di Advanced Italian, in questo video vi spiegherò due verbi che sono molto usati nella lingua italiana e che sono sinonimi tra di loro con una piccola differenza. Cominciamo, i verbi sono aspettare ed attendere. Aspettare significa attendere ansiosamente o fiduciosamente, desiderare. Un esempio Inoltre aspettare significa disporsi all'arrivo di qualcuno o di qualcosa o al verificarsi di un fatto. Attendere, un amico, ospiti, una telefonata. So, arranging for the arrival or someone or something or the occurrence of a fact. Waiting, a friend, guests, a phone call. Invece attendere significa comunque aspettare ma con un accento di formalismo. Ossia, l'inizio del film, l'autobus. Waiting with an accent of formalism. The beginning of the film, the bus. Mi dispiace ma lei dovrà attendere. I am sorry but you will have to wait. Se ci fate caso qui ho detto lei, non tu. Quindi sto parlando in modo formale. Di solito questo è il linguaggio che usano i professori universitari o i giornalisti. Quindi, ricapitolando, entrambe sottolineano l'incertezza riferendosi ad un fatto o ad una persona di cui azione o arrivo non si sa con certezza. Ossia, non si sa se l'azione si verificherà o se la persona verrà, ma la differenza fondamentale sta nel fatto che attendere ha una valenza formale. Professori o politici preferiscono usare il verbo attendere invece del verbo aspettare. Inoltre, aspettare rappresenta anche una elevata probabilità quando il verbo diventa riflessivo. Quindi quando parliamo del verbo aspettarsi, io mi aspetto, tu ti aspetti, che qualcosa succeda. Non si tratta di certezza, non sono sicuro che succederà, ma me l'aspetto. Non sono certo che lo passerò, però ci sono buone possibilità che lo passi perché ho studiato, mi sono preparato, eccetera. Quindi c'è una determinata probabilità che l'evento accada. Spero che il video vi sia piaciuto e vi lascio appuntamento ai prossimi video. Ciao!